Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi faccio un po' di decluttering dei vestiti per mia figlia, quelli che non le vanno più bene li metto via, perché ho ordinato un sacco di roba sul sito Chiavi e quindi c'è bisogno di posto, ecco. La prima cosa che vado a mettere via è questa tuta qua, un mese, marca Coccole, è veramente veramente buona come tuta, ci siamo veramente trovati bene anche nel metterla, nel cambiarla, insomma, eccetera, anche nel lavarla, quindi questa con dispiacere però mi tocca metterla via. Se sentite dei pianti è perché il mio compagno la sta cambiando, allora, il papà la sta cambiando. E questo qui è Zero Mesi, marca Coccole, l'hanno spezzato. E' un peccato mettervi anche questo perché veramente si siamo trovati bene sia noi che lei con questo spettato qua. Vabbè, andremo a metterlo via. Questi sono tipo Primark e sono tra i sei mesi però sono veramente veramente molto stretti come taglio, e quindi mettiamo via anche questi. Questi sono due pantaloncini. Anche questi sono uno o tre mesi, mi sa che gliel'abbiamo messesi qualche volta perché abbiamo preso un mucchio di cose. E adesso vado a togliere questo qua perché lo posso riutilizzare. Si va a togliere. In realtà queste, quelle due magliette lì che vi ho fatto vedere, le proviamo meglio perché secondo me le vanno ancora bene. Allora, questo invece è un pezzo di cuore perché questa qui era la mia tutina. E l'ho indossata anch'io e adesso non le va più bene. Quindi mettiamo via. La tutina qua invece gliel'ha regalata mia mamma, quindi la nonna, e non le va più bene. Quindi si va a mettervi anche questa. Questo è un completo che abbiamo preso da NKD. È veramente morbido e fa caldo. E questo forse già il mese prossimo, ma sicuramente perché tra due giorni fa tre mesi. Quindi questo qui è un tre a sei mesi. E quindi sì, dal mese prossimo, forse già tra due settimane, questo si comincia a mettere. Questo è un body che è scomodissimo della prenatal. 0,1, quindi praticamente non l'abbiamo mai usato perché è fatto così. È tutto aperto. E niente, adesso vado con la roba, con i vestiti, taglia tra sei mesi. Questo è un completo tra sei mesi della prenatal. E dai, così intanto adesso vi faccio vedere questo. E faccio così, così riesco anche a mettere in ordine meglio. E vado a mettere a posto questo vestito qua. Questo ce l'hanno regalata, taglia tra sei mesi. E original marines, quindi ottima roba. E c'è ottimo materiale, eccetera. E anche questo qui morbidissimo. Ottimo. Questo non è un completo, ha solo i pantaloni tra sei mesi. E niente. No, può darsi che sia un completo, però che il resto sia da lavare, ecco. Comunque tra sei mesi. E questo mi sa che sia di Primark. Sì, esattamente. Questa è una taglia tra sei mesi, presa da Primark. Veramente, veramente comodo anche questo come body. Però, vedete, c'è una plastica qua. E io, purtroppo, non mi piace mettere a contatto con la pelle vestiti con questo tipo di stampa qua. Questa gliel'ho presa ieri dalla Primark, tra sei mesi. È veramente, veramente bella. 12,59. O non gliel'ho presa ieri? Non me lo ricordo, eh. Vabbè. Comunque, questa gliel'ho presa io dalla Primark. Mi ricordo se questi qui ve li ho fatti vedere. Comunque, taglia tra sei mesi, presi ieri. A un modico prezzo di 5,40 euro. Mi scegliamo dei pantaloni e li ho presi. Sempre un regalo che mi hanno fatto da Original Marines. Cioè, non è che quelli di Original Marines mi hanno fatto questo regalo. Qui ci ho fatto questo regalo, ho preso questa maglietta qua, da Original Marines. E è veramente, veramente carina. E anche questa qui tra sei mesi è ancora abbastanza larga, quindi ne la metteremo più avanti. Allora, adesso passiamo alla taglia, 6-9 mesi, a questo completino qua. Preso da H&M. È l'unica cosa che io ho preso in quelle gotti lì. Infatti qua c'è scritto. Da Primark ho preso questo qua, 6-9 mesi. Perché tempo fa ne avevo visto uno simile da Chiavi. Poi dopo non l'ho più trovato. E questo invece l'ho preso da Primark. Lei avrà sei mesi. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, a marzo. E questo qui lo va bene fino a giugno. Quindi maggio, aprile, questo qui direi che va benissimo. Cotone. Ottimo. E l'ho pagato 13 euro. Neanche tanto. Sempre da Primark. 6-9 mesi questo qua, che l'abbiamo pagato. Non ne ho ricordo. Questa è stata la prima volta che siamo venuti da Primark a prendere queste cose qua. E poi c'è anche la berrettina, tra l'altro. Proprio un completo. 16 euro. Ci sta. Questi invece sono tutti i body del Re Leone. Tra l'altro aveva un completo del Re Leone che... Cioè, ha un completo del Re Leone. Che l'abbiamo preso dalla prenatale, però è da lavare. Quindi quello lì non ve lo posso far vedere. 11 euro. Anche questi qua 6-9 mesi, non potete vedere. Da 6-9 mesi abbiamo preso questa maglia qua di Bambi. Penso da OPM. Veramente, veramente carina. Mi sono dimenticata di farvi vedere, taglia 2-4 mesi, questo completo qua preso da EICENEM. Stranissimo. Forse non gliel'abbiamo regalato noi. Boh. Già 6-9 mesi. Preso... No, 6 mesi. Preso da Chiavi. Questo qua. Con la berrettina, ovviamente. Il body e i pantaloncini. Ieri, quando sono andata a far comprare, da Chiavi, ho preso questo qui, taglia 6 mesi. Non 12 euro, cioè non ho pagato 12 euro, ma ne ho pagati 7 euro. Scontatissimo. È veramente, veramente comodo, perché tra un po' le andrà bene. Sempre ieri alla prenatal, perché c'è questo centro commerciale qua, vicino a me, che c'è sia la prenatal che Chiavi. E poi c'è un altro che c'è sia la prenatal che Primark. E scontato, 3,90 euro. Questo 6-9 mesi, nel caso che si sa marzo, è un mese un po' così. Quindi può fare, sia bello che è brutto tempo. Quindi questo qui è un po' più spesso. E quindi dovrebbe andare bene. Alla prenatal ho preso questo qui, è un completo, 0-6 mesi. Ve lo faccio vedere assieme a questo qua, della Nike, che è 6 un anno. Cioè, 6 mesi un anno. E entrambi mancano i calzini, perché ce li ho di sotto nel fasciatoio, dove ci sono anche tutti i body. Il resto dei completini, chissà che non riesca a farvi anche un video dei vestiti che ho lì. E vabbè. Però qui al posto della berretta, qua c'è la berretta, ci abbiamo la fascia. Sempre 0-6, non potevo mai lasciarmi scappare questo completo qua. E questo è 0-6. Calfini, pantaloncini, maglietta. Calfini, sì. Ma io non l'ho mai aperto in realtà questo, quindi non so quando glielo andrò a mettere. A provarci anche che lo lascio così, bello, in scatolato. Non mi ricordo se questa qua ve l'ho fatta vedere, 6-9, penso di avervela fatta vedere. Pagato 2,79 e questa qui la metto nell'armadio. E tra qualche mese la porterò di sotto, perché adesso i vestiti che usa lì, li porto di sotto. I vestiti che usa di più, poi altri in tempo qua in camera, però. Dalla prenetta l'abbiamo preso anche questi body qua, 6-9 mesi. Sono veramente, veramente carini. Queste due cose qui sono le uniche cose che ho 9-12 qua in camera. Sono tutte e due... no, questo è un regalo, questo qua no. Questo qua l'ho comprato io. E mi sembra di averlo preso da Primark, tra l'altro. Cambiare ovviamente, perché è esatto, Primark. Tanto per cambiare. E invece questo qua ce l'hanno regalato bellissimo di Minnie. Veramente, veramente top. L'ha preso una mia amica e mi conosce bene questa mia amica qua. Poi questi qui invece sono tutti regali da parte di una mia sola amica. Ci ha regalato tutta roba da un anno in avanti. E ha praticamente svaleggiato tutti i negozi. E infatti è stata carinissima. Allora, questa maglietta qua. Questa gonnellina qua è per quando avrà un anno e mezzo, all'incirca. Veramente top. Per quando avrà un anno e mezzo o due, però si sa che alla fine c'è anche la gonnellina. Lei avrà un anno e mezzo gennaio, così. La gonnellina che avete visto, però, secondo me, è già molto prima se la può mettere. Sono cose che alla fine si mettono prima. Anche perché poi io preferisco che i vestiti siano sempre un po' larghi e troppo stretti. Questa maglia qua ci ha regalato. Adesso ve lo faccio vedere così alla svelta perché ho la batteria del telefono scarica. Questa maglia qua pure. Questa. Questi pantaloncini qua anche. Tutta roba un anno, un anno e mezzo. No, queste 9,12. Ormai con i centimetri non ho neanche bisogno di leggere. 9,12 anche questo. E queste qui, sì. Questa è l'ultima maglietta che abbiamo per adesso perché ne devono fare le altre. Un anno e mezzo. Mi dimenticate di farvi vedere questi pantaloni qua. 6,9 mesi presi ieri alla prenatal. Pagati 6,99 e 1,80. Mi sono andato i pantaloni. E li ho presi. Vado a mettervi anche questi. Non ho più posto. Cioè non ho più posto di metterla roba nell'armadio. Questi qui sono tutti i pavagli che abbiamo. Questo ce l'ha regalato. Questo ce lo siamo comprato. Penso bisogna vedere. No, questo qui ce l'ha regalato mia mamma. Questo ce lo siamo preso noi da Primark. Sicuramente. Dovrebbe essere di Primark. Esatto. Primark. Prenata ce lo siamo preso noi. Questo. Non sa che glielo ho preso io. Sì. E questi da OBS ce li hanno regalati. Carinissimi. Questo ce lo siamo preso noi dalla Preatua. Da Primark. Primark penso. Tra le altre cose. Yes, Primark. E niente. Questi sono i pavagli che andiamo in camera. Perché poi dopo ne abbiamo degli altri di sotto. Adesso vi faccio vedere caffini, scarpine e berrette che ho in camera. Giusto per farvi un'idea delle scarpe che ha mia figlia. Di quanto scarpe ha? E ancora non cammina. Ah, ci sono anche queste qua. Questi qui sono caffini però. Più caffini che scarpe. Allora, questi qui sono 0,3. No, 3,6. 6,9. 0,3. 6,9. 6,9. Tra l'altro di queste qui neanche un paio adesso addosso. E 3,6. 6,9. 0,3. Che tra l'altro sono bellissime. Quindi le porterò di sotto. Queste qui non mi ricordo però le ho già messe. E queste qua sono 0,3. Sempre. No, 3,6. Sempre prese da chiavi. Queste qui sono chiavi e Primark. Questo qua pensavo di avere le prese da Primark. Invece le ho prese da chiavi. Qui sono le berrette bandane che ha. Poi un'altra fascia. E qua abbiamo i calzini che in camera ho solo questi. Questi qui però sono grandi. Vanno da un anno a sei anni. C'è scritto. No, sei 12 mesi. Cacchio, stavo dicendo. Infatti mi sembrava strano. Vanno da.